Oggi facciamo insieme un'escursione con la barca nella giungla Eccoci ragazzi al Tourism Hospice di Bang San Han Siamo venuti qua perché ci servono istruzioni su come arrivare nelle cascate E le cose, la barca da prendere eccetera Quindi abbiamo preso questo dépliant dove ci sono tutte le istruzioni e i prezzi Quindi il prezzo è 1200 peso la barca che sono 7 km con la barca nel fiume fino ad arrivare alla cascata Ora andiamo, è dritto di qua, prendiamo la moto e andiamo Ragazzi dopo aver preso l'informazione dal Tourism Center Siamo qui in questo ristorante dove abbiamo preso i biglietti e ci hanno mandato qua Poi abbiamo parcheggiato qua la moto e adesso non so cosa succede Cosa succederà, andiamo e lo scopriremo insieme Ok stiamo seguendo il personaggio che ci porta Quindi questo è l'inizio del fiume Allora questo è l'inizio del fiume Qua è meno bello ma penso che più avanti si vada Più sarà pulita l'acqua e bello da vedere Ecco qua l'attrezzatura Guarda il cappello Ok Ok Allora Un motore lo spingono proprio con i remi Barchetta piccolina, spero non bagniamo più ne tanto Fado io? Puoi termalo, un secondo Ok Ok Bene, siamo partiti, fa veramente caldo devo dire, c'è proprio il sole che picchia, meno male che è un po' nuvoloso forse, qua c'è una ciappacchina, una ciappacchina che galleggia Non bisogna muoversi troppo perché si sbilancia la barca, si sente proprio, devi stare fermo Qui c'è un'altra barca che ci sta guardando Lui ha il motore E ci trai no? Ah ci trai no, guarda Ma che figata Non puoi metterti troppo a sinistra che vai giù eh Oh no amore Eccolo, lui ci dà il motore Ci dà la spinta Let's go Oh ok, ti stavo io, facciamolo tutto con le braccia Vai Vai Fa il bagnetto Io sono messo così ragazzi Nel caldo Tutto bello vedere Mi dispiace stoppare il video perché comunque Ci sono delle belle cose da vedere Vai Tutti che salutano Tutti che pesci strani che ci sono qua Incredibili Assomigliano a te, agli umani Pesci umani E' un uccello E' un uccello Vai Poi ci siamo già arrivati Dove si fa adesso? Abbiamo due, uno qua e uno dietro Loro spingono e noi ce la godiamo Noi ce la godiamo Sulla barca Ecco qua Così Ah perché qua c'è la corrente Come si vede Corrente Quindi siamo controcorrente Non ci dobbiamo impiegare troppo Che ci bagniamo Qua c'è un cane come sempre Stava bello Stava bello Stava bello Stava bello I cani non mancano mai Ecco che tocchiamo i sassi Forse il ritorno con la corrente è più bello no? Oh non fare così che ci bagniamo È fatto caldo Adesso Si si È proprio caldo oggi Si schiatta Forse è meglio così Però è un po' nuvoloso Ok Che posto Ecco sentite Siamo arrivati proprio Nel cuore del fiume ragazzi Si sentono solo Gli insetti Io mi son tolto l'elmo L'elmetto Che fa troppo caldo Bello qua Non ne rovano così Non sa per quanto tempo Comunque ho scoperto Che dopo Dopo scendiamo dalla barca E camminiamo per un po' Poi ci dovrebbe essere una grotta È quello che si capisce Ma lo scopriremo Via via Andando avanti Qui siamo contro Contro corrente Ci sono dei punti un po' più forti E i punti meno forti Ecco qua Adesso scenderanno dalla barca Ancora una volta Si salutano con Altri Pescatori Madonna è imbarcata l'acqua C'è l'acqua sotto di te Bucata Qua ci abbronziamo Ci abbronziamo per bene Siamo contro corrente Ci sono tanti così Con tanti colori Ho visto Tanti colori Rosse Lele Libellule no? Li va? Farfalline L'escursione Nelle Filippine ragazzi Guardate qua Che imponenza Sono tipo ibridi Mezze Mezze Libellule Mezze Farfalle Vero? Cosa succede? Cosa succede? È stanco È stanco Eh non è facile Forse le dobbiamo aiutare È stanco Devo Cosa casa Cosa Hai Cosa 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 eccoci qua hanno messo le bottiglie di plastica per fare la strada indicano la strada praticamente probabilmente perché sotto magari ci sono i sassi che possono toccare la barca e quindi è meglio percorrere la barca la strada segnata da le bottigliette sono le scimmie ragazzi non vedo l'ora di vederle si sentono si sentono vedo muoversi le la foresta si muove gli alberi ci sono le scimmie spero di vederne oggi mai che ci sono le scimmie si ci sono le scimmie ci sono le scimmie ci sono le scimmie mentre la foresta per vedere se sentono questo sta inizia a usci Grazie a tutti Voi filmare Voi filmare Puoi fare anche 10 minuti di così Bene ragazzi La prima parte finisce qui Ci vediamo nel prossimo video Con le cascate di Bang San Han Grazie